Vanda ultralarga, parola magica per definire la frontiera più avanzata dello sviluppo, anche economico, in ogni settore produttivo. Da quello primario l'agricoltura a quello secondario l'industria. Ai servizi non c'è comparto che non abbia bisogno della più alta e qualificata dotazione connettiva. La Sicilia è luogo di ritardi storici, quasi sempre colpevoli di sprechi, inefficienze e di occasioni mancate. O per insipienza o per le distorsioni della convenienza, anche corruttiva, di pochi contro l'interesse di tutti. Qualche recupero però di recente è avvenuto. Oggi la banda ultralarga copre 142 comuni siciliani, pochi certamente, ma l'obiettivo annunciato è quello di fare in fretta. Per Gaetano Armao, vicepresidente della regione e assessore all'economia, occorre completare l'infrastrutturazione, puntando sul fatto che le più importanti dorsali del Mediterraneo passano per la Sicilia. Finora nell'isola sono stati spesi 75 milioni di euro, tant'è che la Commissione dell'Unione Europea ne ha riconosciuti altri 55. Questo dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Nel 2022, promette Armao, saremo l'area più digitalizzata del Mediterraneo. L'obiettivo finale è di dare copertura a tutti i 390 comuni dell'isola. Oltre alla banda ultralarga in agenda digitale, sono previsti 80 milioni per i servizi informatici e le infrastrutture immateriali, di cui 30 sono stanziati per la sanità digitale, e 50 per la digitalizzazione dei processi e servizi di e-government, e-culture e e-justice. Il Programma Digitale Europeo 2021-2027 è stato al centro del secondo giorno di lavoro della SEDEC. La Commissione Ricerca e Cultura del Comitato Europeo delle Regioni, organismo dell'Unione Europea, composto dai rappresentanti degli enti locali provenienti dai 28 Stati membri, è riunito per la prima volta in Italia. La Sicilia è stata definita dai più autorevoli esponenti della Commissione, uno dei riferimenti europei. La rivoluzione digitale offre all'isola l'opportunità di superare i drammatici ritardi nell'industrializzazione e puntare ad una nuova prospettiva di sviluppo e di crescita economica.